Il campo basso 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 basso Per aspettare diverso tempo Per delle schiarite O per definire la situazione In modo preciso Intanto segnaliamo Il comunicato stampa Fatto dal gruppo Di tifosi Bianco Celesti La Serpa Nemmore Maie Nel corso Del comunicato In primis Un ringraziamento Anche all'ex socio Mario Mariani In particolar modo Per lo scorso campionato Poi una rivendicazione Legittima Di poter manifestare L'amarezza Per il risultato sportivo E il disaccordo Sul modo di gestire La squadra Da parte della società E dell'allenatore Con una serie Di criticità Enunciate Il gruppo Isernino Ha posto l'accento Anche su un sostegno Alla società E alla squadra Che non è mai mancato Nonostante una linea Non condivisa Soprattutto nei momenti Difficili E proseguirà Anche in futuro Per la fede Dei colori bianco celesti A sostenere La società In alto Molise Domenica L'Olimpia Agnonesi Ha perso Lo spareggio Salvezza Contro la Vastese Ieri Nello studio Regale Marinelli I fratelli Colaizzo Hanno saldato Tutte le mensilità Ancora aperte Con i tesserati Di questa stagione Ed è una cosa Assolutamente Apprezzabile Da parte Dei fratelli Colaizzo Perché evidentemente Hanno tenuto fede A tutte le loro Incompense Non appena È terminato Il campionato Magari Se fosse stato così Anche Qualche anno fa E soprattutto Se fosse stato così Anche da altre parti Della nostra regione Tornando Alla gara Che si è disputata All'Aragona Il commento L'equilibrio Nese ha sicuramente Già pensa al ripescaggio Ripeto Secondo me è molto dubbio Però Accettiamo il verdetto Del campo Ha spezzato gli equilibri Ed è finita lì Noi dovevamo allungare La partita Nei tempi supplementari Per poi Giocarci tutto lì Purtroppo Non ci siamo riusciti Peccato Ripeto Dobbiamo voltare subito Pagina a tutti Compreso il sottoscritto Io ripeto Mi assumo Le mie responsabilità Perché comunque Qualcuno può pensare Che il sottoscritto È tornato Chissà per che cosa Io sono tornato Perché volevo salvare Questa squadra E ci credevo E penso di aver dato tanto Mi dispiace tantissimo Perché questa è una società Che sinceramente Non merita Retrocedere E niente Andiamo avanti Andiamo avanti Calcio a 5 Di Serie B Al Pala Unimol Sabato Il Cus Molise Ospiterà il Chieti Per la semifinale Di ritorno Dei playoff I molisani Devono ribaltare Il 3 a 2 Subito in terra Bruzzese Impresa non impossibile Per gli uomini Di San Gennario Squadra in campo Sabato Alle 16 Automobilismo Questo fine settimana A Campobasso Torna lo slalom Città di Campobasso Memorial Gianluca Battistini Il prossimo fine settimana La serpentina Della Gildonese Ospiterà lo slalom Città di Campobasso Memorial Gianluca Battistini Lungo la strada statale Del capologo molisano I residenti Di Contrada Mascione Hanno dipinto Le 16 postazioni Di rallentamento Previste per la corsa E applicato Le barriere Di protezione Lungo il tracciato Per garantire La sicurezza Di piloti E spettatori La kermesse molisana Sarà valida Come seconda prova Del campionato italiano Slalom 2019 Da 22 anni La gara targata A Cimolese Famiglia Battistini Mette in palio punti Per assegnare Il titolo Tricolore Dopo l'esordio Nella 24esimo Slalom Torregrotta Rocca Valdina In calendario C'è lo slalom Di Campobasso In Sicilia Il driver molisano Fabio Emanuele Ha conquistato Il successo A bordo Della sua osella Pia 990 Alfa Romeo Precedendo Salvatore Benanzio E Saverio Miglionico Entrambi Surradical SR4 Per il quarto anno Consecutivo Confermata la validità Cez Per la kermesse molisana Dieci le tappe In programma Per assegnare Il titolo interzonale Dell'est Europa Dopo Ungheria e Slovacchia Appuntamento in Italia Per i drivers europei Impegnati nel Central European Zone Sabato le verifiche Tecnico-sportive Domenica mattina Via Lettre Manche Sarà come sempre Un appuntamento sportivo Ma anche una o due giorni Per ricordare Gianluca Battistini Il giovane molisano Strappato troppo presto Alla sua vita Basket femminile Di Serie A2 Domani ultimo atto Della fase playoff Del Girone Sud Gara d'andata Tra Palermo E Bologna Squadra in campo Alle 20 Il ritorno In terra emiliana Nel fine settimana Intanto A proposito del Bologna Il presidente Ha già dichiarato Che in caso di promozione In A1 Rinuncerà al campionato A proposito Della gara Della semifinale Di ritorno Del Palavazzieri Tra la Molisana E Bologna Ai nostri microfoni Il coach Rosso Blu Mimo Sabatelli Bello e brutto Dello sport Sabato scorso Stavamo qui A esaltarci A commuoverci Per la gioia E oggi Arriva Questa sconfitta Parere mio Ci conosciamo da anni Ameriato Bologna Sulla lunga Forse Sicuramente ha avuto più esperienza E freddezza di noi Questo è inutile negarlo Perché Oggi Anche oggi Nel momento in cui Noi avevamo preso Un bel break La squadra esperta Non hanno mollato Cosa che forse Abbiamo fatto noi A Bologna Quindi Sono riusciti A non andare sotto Nel punteggio E a riprendersi subito E noi avevamo spiegato Tante energie Perché Per recuperare Quel gap Comunque Ci avevamo messo Tante intensità Però Sì Sicuramente Loro hanno avuto Qualcosa in più Rispetto a noi E quindi Bisogna accettare Questa sconfitta A Mente Fredda Poi faremo un'intervista Più dettagliata Però Riguardando il film Della stagione Cosa cambieresti A parte la partita di oggi Ma E' cambiare Questa squadra E' stata costruita Per migliorare qualcosa Rispetto all'anno scorso Negli obiettivi Sicuramente Non era previsto Un campionato Come quello che abbiamo fatto E' inutile negarlo Però è normale Che una volta che ci arrivi Ci vuoi provare E quindi E quindi Ci cominci a credere Sapevamo che le altre Avevano qualcosa in più Sicuramente Di esperienza E si è visto Però ripeto Io non cambierei nulla Perché Devo fare solo i complimenti A queste ragazze Ultima considerazione Bisogna ripartire Secondo me Da questa squadra Poi chiaramente Tu sai quello che ci devi fare E da questo pubblico Che Io oggi Veramente Non riesco a trovare Gli accettivi E' stato davvero Commovente Ecco Sì Hai detto bene tu Commovente Avremmo Oggi veramente Avrei fatto Qualsiasi cosa Pur di dare una gioia A questa squadra A questa società E a questo splendido pubblico Purtroppo questo è lo sport Bisogna sapere accettare Anche le sconfitte E oggi Questo pubblico Ha dimostrato Non solo di sapere Accettare la sconfitta Ma di Di essere veramente Parte Parte di questa squadra Perché Minuti interi A incitare la squadra E a fare Gli applausi A queste ragazze Ci orgogliscono Perché significa Che abbiamo fatto Qualcosa di importante E abbiamo risvegliato Una passione E come dicevi tu Noi dobbiamo ripartire Da questa Adesso Questa settimana Ce la prendiamo Un po' di Pausa E dalla settimana prossima Faremo Faremo di tutto Per confermare La maggior parte Del blocco Queste ragazze E per ripartire Da un Blocco Che ci possa Con dei nuovi Innesti Provare a fare Questo salto di categoria Ciclismo Ciclismo Dopodomani Doppio appuntamento In Molise Che sarà attraversato Dalla carovana rosa Del giro d'Italia Sempre nello stesso giorno Il capoluogo Sarà protagonista Di un altro grande evento Il giro E Con partenza alle nove Da piazza In piazza Prefettura Si tratta di un giro Amatoriale Con le bici elettriche Che quest'anno Ufficialmente Percorrerà Tutto lo stivale Dal 12 maggio Al primo giugno Vuntan Bike Domenica I migliori bikers italiani Si sono dati appuntamento A Filignano Marco Ciccanti Edizione 2019 Della Mainhard Bike Race Qui a Filignano Da Ascoli Piceno Sei arrivato Grandi aspettative Prendi il primo posto Il primo premio L'ambito In questo circuito Che è davvero impegnativo Vogliamo sapere Qual è Sostanzialmente A titolo di curiosità La tua preparazione La tecnica Il percorso Allora innanzitutto Complimenti agli organizzatori Anche a chi ha creato Il percorso Perché era veramente Fantastico Poi oggi Ci si è messo pure Il tempo brutto Quindi ha reso ancora Il percorso Ancora più viscito Ancora più tecnico Però tutto sommato È andata abbastanza bene La mia organizzazione La mia preparazione Più o meno Sono abituato a fare Le maratons Il mio aspetto fisico Mi consente di andare Sulle lunghe distanze Andare molto bene Oggi Quando all'inizio È stato accorso Il percorso Un pochetto Temevo Che mi potesse penalizzare Però È andata La grande Quasi una contraddizione In termini Più è lungo Più è agevole per te Sì Io diciamo Vengo da 12 anni Su strada Corso Quindi Diciamo Parecchio fondo È tre anni Che vado in mountain bike Mi trovo bene Sulle lunghe distanze Dalla quarta Alla quinta ora Mi trovo benissimo Però Tutto sommato Oggi Quasi tre ore di gara È andata benissimo Marco Con la tua prima esperienza In Molise No Ho fatto una gara a Boiano Per due anni consecutivi Una volta chiuso terzo Una volta secondo E Diciamo a scalare Sandoci da conquistare Il primo posto Gianluca Valerio Il vincitore di Maynard Bike Tour La tua faccia Dice tanto Il tuo volto La stanchezza Ma allo stesso tempo La soddisfazione Sì Grande gara Ci tenevo tantissimo Visto che l'anno scorso Mi è mancato Ho dovuto lasciare A metà percorso Che ero secondo I problemi fisici Quest'anno Sapevo che mancava Gianni Quindi Sono partito Direttamente Per cercare di vincere Sono sincero E ci sono riuscito Si è presa una bella rivincita Il percorso era difficile Anche il meteo Ci ha messo al suo È un periodo Che corriamo sempre così Quindi non mi ha fatto Nessuna differenza Anzi Forse mi ha premiato E Mi dicevano Lungo il percorso Che ero primo Però Non sei mai sicuro Comunque Va bene Perché da fuori Può sembrare tutto facile Poi una volta Che sei sulle due ruote Per di più qui Al rettilineo finale Con la moto Perché c'era un cartello Che girava Ci stavamo a scontrar Meno male Se no Comunque È andata bene Dedichi questo successo A qualcuno in particolare A tutta la mia famiglia Le mie figlie Mio fratello Che mi segue sempre E la squadra In particolare La mia compagna Prossimi appuntamenti Domenica prossima Domenica prossima Il circuito Dell'Alto Casertano Prepari come questa Sì 32esimo Stile libero Stile libero E vice campionessa Stile libero Ha dominato Sui Santi E niente Congratulazioni I ragazzi Che sono stati straordinari Dopo un anno Tanto ancora da lavorare Mi auguro che continuiamo Continuiamo con questa intensità Con questa voglia E congratulazioni di nuovo Veramente ai ragazzi Se nella categoria giovanissimi La scuola calcio Santi Pietro e Paolo E' stata vice campione regionale Nella categoria allievi Invece ha vinto Il titolo regionale Massimo Ricci Renatore dei Santi Petro e Paolo Vittoria Una categoria allievi 3 a 0 Vittoria strameritata Massimo Ricci Renatore di Santi Petro e Paolo Arriva una vittoria Una categoria allievi 3 a 0 Sultato che non fa una piega Vittoria strameritata Ed è giocato molto meglio Hanno letto subito bene la partita Siamo stati concentrati Al primo e secondo Ma come tutta l'annata Non abbiamo perso un colpo I ragazzi sempre concentrati Poi siamo una grande famiglia Ci vogliamo bene Quindi c'era una fiatamando Fin dal primo giorno di ritiro Quindi complimenti Complimenti a loro I ragazzi sono stati fantastici Che cosa si può dire Lavorare con i ragazzi? Ci vuole volontà E ci vuole tanta pazienza Ci vuole pazienza Ci vuole tanto entusiasmo Prima di tutto Perché se non c'è l'entusiasmo Non c'è Ci vuole competenza Qualche competenza ci vuole ovviamente E poi ci vuole tanta passione Tanta, tanta, tanta passione E poi lavorare con i ragazzi Soprattutto con questi ragazzi È qualcosa di unico Fare calcio a Temolo È così complicato Perché come ben sai La prima squadra Ha qualche problemino In eccellenza Però Le scuole calcio Vanno più che bene Ci vorrebbe Ci vorrebbe un progetto Un po' più che punti Sul territorio Sui ragazzi Perché il bacino di utenza c'è I ragazzi ci sono L'abbiamo dimostrato noi Quindi basta solo puntare un po' E non avere quella fretta Che poi non porta a niente Come abbiamo visto Negli ultimi anni In futuro invece Questa scuola calcio E del calcio molisano in generale Come lo vedi? Noi stiamo lavorando Anno dopo anno Sempre meglio Le iscrizioni aumentano sempre di più Abbiamo tecnici Che hanno delle competenze molto alte C'è entusiasmo Lavoriamo quotidianamente Siamo in sintonia Tra tutti gli allenatori Tra la società E secondo me Uno dei posti migliori Dove lavorare Su questo sport In Molise Atletica da sabato Fino al primo giugno All'Exigil Si è resposto Una mostra fotografica Per raccontare La storia del gruppo Sportivo Virtus A questa manifestazione Rientra nel cartellone Degli eventi Per celebrare I 60 anni Del club Giallo-Blu In chiusura Domani Verrà inaugurata A Venezia Una nuova mostra Di Piero Perrino Il pittore molisano Esporrà le sue opere Insieme a Carla Ann Dinunzio Si preannuncia Una personale A due voci Che resterà aperta Per due settimane Bene Era l'ultima informazione Per questa edizione Del nostro TG Sport Buon pomeriggio All'inizio elia indicate quanto a 盎 A L'anvisio Mot España Del nostro TG Sport ietro